Sindaco, alle europee no, alle regionali sì. Ci sarà lei alle regionali? All'europee no, nel senso che vado a votare. Alle regionali sì, nel senso che saremo candidati. Poi se sarò candidato io, questo lo vedremo nei prossimi mesi, sicuramente lo sapremo per settembre. Bisogna lavorare per individuare la soluzione migliore per vincere. Se la soluzione migliore per vincere e per fare una coalizione vincente significa una mia candidatura, io ci sarò.